Poche settimane fa la preoccupazione maggiore era la fioritura anticipata della mimosa. Domani ricorre la giornata della donna, che molti insistono nel chiamarla festa. E più che al mazzo di fiori da offrire alle signore, la preoccupazione continuerà ad essere quella di come venire fuori dalla nuova peste. Sono considerazioni che mai avremmo voluto fare, ma che alla luce delle notizie che giungono ad ogni parte del mondo non possiamo tacere. Ora il dibattito si concentra, spesso per allontanare la paura e il panico, su giornali, radio e televisioni colpevole di informare. C'è chi parla di terrorismo mediatico solo perché certe notizie preferirebbero non sentirle. Compito dei giornalisti è informare nel migliore dei modi, dando notizie certe, vere. Chi fa informazione deve attingere da fonti certe e vere e molti in questi giorni lo fanno, direi la maggioranza. Se poi c'è una parte che preferisce seguire i fatti infarcendoli di ideologie partitiche, è un'altra cosa. Bisogna saper distinguere tra i bravi giornalisti e, scusatemi, i cattivi giornalisti. Oggi sono i numeri increscendo dei contagi del coronavirus che fanno testo e poi gli interventi di scienziati che raccomandano di non abbassare la guardia, di non prendere tutto sotto gamba. È meglio ricordare che senza l'informazione, quella seria, ancora oggi non sapremmo nulla o perlomeno poco. Auguri a tutte le donne, alle quali, seppur virtualmente, offriamo mimosa, ma soprattutto di far quadrato con il buon senso che da sempre le contraddistingue. Domani è la loro festa. Auguri a tutte quante.